Il Cristo Gesù rivive nello spazio di una vita tutta la storia del popolo di Dio, una storia interamente profetica. Come Israele Gesù è fuggito in Egitto e come Israele dimora nel deserto. Il deserto è un luogo imprevedibile, vi si entra per il raccoglimento, per la meditazione, per cercare Dio e pregarlo e vi si incontra il diavolo, vi si incontra la tentazione. Lo Spirito Santo ci conduce nel deserto per un'esperienza mistica di contemplazione e vi troviamo Satana che ci tenta, si affronta la sofferenza del digiuno, essi sognano tanti pranzi come avvenne per gli ebrei, chi ci darà la carne da mangiare? Ci viene in mente il pesce che mangiavamo in Egitto. In quel tempo Gesù fu contotto dallo Spirito nel deserto, digiunò 40 giorni e 40 notti. Dopo i citati giorni gli si avvicinò il tentatore. La prima tentazione è concreta, di che queste pietre diventano pane e ti puoi mangiare. Se sei figlio di Dio, comanda queste pietre che diventano pane. Gesù allontana il tentatore dicendo, non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. La potenza di far miracoli non è data a Gesù per liberarsi dalle difficoltà, ma per dimostrare la missione affidatagli da Dio. Satana passa un'altra tentazione. Se tu sei veramente figlio di Dio, deve presentarti al popolo con miracoli strepitosi, altrimenti nessuno ti seguirà. Ecco, gettati dal pennacolo del Tempio, Dio ti salverà. E Gesù sa che Dio, Padre, gli ha tracciato il cammino dell'umiltà e della sofferenza escama, quindi non tenderai il Signore Dio tuo. Satana passa all'altra tentazione. Da un lato, da un altro monte, mostra Gesù tutti i regni del mondo e la loro magnificenza davanti a quella grandiosità. Il principe delle tenebre ha la sfrontatezza di dire, tutto questo ti darò, se ti incinocchi davanti a me e mi adorerai. Cossegno Gesù gli comanda, via da me, Satana. Sta scritto, adorerai il Signore Dio tuo e lui suo servirai. Un cammino verso la fede. Per comprendere meglio lo stato d'animo di Frappio, a pochi giorni della sua offerta totale nella consegnazione sacerdotale sull'altare del Calvario, è bene andare con la mente a Gesù nell'orte del Getsemeni. Le espressioni accorate del Padre manifestano un animo tormentato, ma anche grandemente innamorato del Signore. Perché il dubbio di aver tutto sbagliato? Perché annientarsi a sacrifici? Perché far di sé una vittima per gli altri? Perché pregare? Sempre che queste domande sono quelle che facciamo anche noi. Perché impegnarsi nelle virtù e nel compiere le opere buone? Per tutti questi sforzi e poi sentirsi respindere da Dio? Perché tentato di tralasciare la comunione quotidiana a queste ed altri interrogativi che tormentavano il suo animo? È lo stesso Padre che dà una risposta chiarificatrice. Tutto sia a gloria di Gesù. In questa tortura il cuore sente una grande fiducia in Dio e sono così pieno di dolore e dei miei peccati che passo momenti di continuo martirio. Non altro conforto mi rimane in mezzo a questo dolore, che lo direi quasi infinito, se non quello di piangere e chiedere conforto e sollievo per me. Grazie a tutti! Grazie a tutti!